Ciao a tutti gli ascoltatori di Riviera Trend, sono Michela, la cantante dei Supercar, e dopo il successo internazionale di Sunite ho il piacere di presentarvi il nostro nuovo singolo dal titolo Computer Love. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Dei Trend Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS